La Miss Volto Vogue Italia che andrà in copertina Vogue per un mese, a tre mesi, scusate, ancora di più. Irina, a te la parola. Grazie, buon, sarà anche l'immagine di Discorrection. E sicuramente è un po' bella questa niente senza loro, caro delle corne, Fabio Berlusconi. Un mega provo per l'Italia. Chi sarà la vincitrice? Chi sarà la vincitrice? Un applauso per qualcosa, l'omore, dai! Innanzitutto grazie a tutte le ragazze che hanno partecipato, perché tutti si sono messi in discussione e a tutti i capelli. E niente, diciamo chi è la vincitrice che vincerà questa possibilità, questa opportunità, di avere la sua foto su una pagina tesi di soldi per tre mesi, cioè da lungo al frattempo dicembre, come foto, dove quella di dicembre? Te la manderò, giuro. Siamo in gennaio del 2017. Scusi, sarà in gennaio del 2017. Iniziamo l'anno nuovo con... Mi devo mettere in questo. Te lo faremo sapere. Se vuoi quella col pannolone la trovi in su. Poi hai dato il pannolone. Adatta a voi. Allora, la vincitrice di questo piccolo concorso, ma spero grande per lei, perché è comunque un trampolino di lancio, è... La numero... Sì! 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 E' arrivato è la numero otto! Bianca Bonizzoni! Un applauso a Bianca che ha vinto, dai! Un applauso a Bianca. Sei emozionata, vero? Scusi! Quindi sei abituata a vencere i concorsi? Vabbè hai vinto, complimenti Quindi per tre mesi io ti chiederò Ragazzi su Facebook Io mi like mi raccomando Su questa ragazza qui Clicchi 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 Like 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 Ok Buonanotte a tutti Io me ne vado io fugo La mamma Ma c'è la tua mamma qua Chi c'è qua con te Non è il tuo ragazzo Secondo me è un bellissimo ragazzo I ragazzi di questa splendore Vieni qua, vieni qua Ma sei un uomo fortunato Cioè io in una vita Mi cerco un uomo come te e non lo trovo Ma meno male Sei contento? Sì, certo Ma non sei geloso? No Nel senso che adesso la vedremo In copertina per tre mesi su Facebook Grazie a Fabio Grazie a Irina Grazie a Gelo Bene, devo fare una ragione Questo devo fare Bene, fate una ragione Vabbè, possiamo andarcele Ciao A te Fabio Buonanotte a tutti Ciao Irina Ovviamente Ovviamente ringraziamo anche il resto della giuria Che si auto presenta Sì, grazie a tutti E molto complimenti Perché hai fatto un viso fantastico Bianca Tanto auguri per la tua carriera Perché io sono qui Sono una persona che ama la bellezza E quindi io la senti vista anche interiore Perché io spiego di donne E di donne che hanno subito la lenta Però in questo caso è veramente positivo E deve uscire Quindi se si attiva la bellezza Perché la positività E è un'opportunità alla fine Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Grazie 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 Grazie